Un araldo a cavallo girava ieri per Barletta preceduto da rulli di tamburi e squilli di tromba. Ci aspettavamo annunciasse la giunta di Cannito, invece era solo il bando della disfida. La giunta è stata ufficializzata stamattina ed è quella che abbiamo anticipato nei nostri Tg di ieri. È composta da Marcello Lanotte, vice sindaco con delega alle politiche economiche, Gennaro Cefola con delega all'urbanistica, Lucia Ricatti all'edilizia e politiche abitative, Elisa Sfera alla polizia municipale pari opportunità, Oronzo Cilli a cultura e turismo, Rosa Tuputi all'ambiente e manutenzioni, Salvatore Lionetti alle attività produttive e Ruggero Marzocca alle politiche sociali. Rispetto a quelli da noi anticipati, si è giunto in serata Gennaro Calabrese ai lavori pubblici a completare il Parterre des Rois, a cui manca solo, come adeguata firma di presentazione, i fratelli Caponi che siamo noi. Cannito ha quindi deciso di fare un'aggiunta non sostenuta da una maggioranza organica. Come abbiamo già scritto, i consiglieri di cui gli assessori sono espressione diretta, sono soltanto nove, Mele, Memeo, Mazzarisi, Di Leo, Antonucci, Grimaldi, Flavio Basile e i due che subentrano a Lionetti e Marzocca, cioè Giuseppe Di Benedetto e Giorgio Di Lernia. Gli altri voti Cannito se li dovrà cercare di volta in volta su ogni provvedimento. Insomma, quella che si prospetta è una questua continua. Non sarà facile perché ai 14 consiglieri, certamente all'opposizione, andrebbe aggiunto bufo che sino a ieri mattina si dichiarava irrevocabilmente all'opposizione. Di Paola, aderente a Cantiere Barletta e che nella precedente giunta era rappresentato da Calabrese, stamattina avrebbe chiarito al sindaco che non è più il suo assessore ed è quindi esclusivamente espressione di Cannito. L'attribuzione della delega di vicesindaco alla notte non sappiamo quali strasci chi lascerà. Sino a ieri mattina Cefola ci ha direttamente dichiarato che non vi avrebbe mai rinunciato, rifiutando in tal caso l'assessorato. Pare siano state chiacchiere al vento. La notte i suoi appaiono i veri vincitori di questo braccio di ferro. Cannito gli ha ceduto su tutta la linea. Due assessorati per due consiglieri, più il vicesindaco, più deleghe pesanti come bilancio e attività produttive. Complimenti a loro. Ma è proprio sulla notte che si abbattono gli strali di Antonio Coriolano del Movimento 5 Stelle che in un post scrive che il re di vivo la notte è tornato nella casa di papà Cannito Caligola. Certi amori non finiscono. Indivisibili, inseparabili. La maggioranza che non c'è. A proposito di Caligola, come Coriolano torna a nominare Cannito, va ricordato che alla luce del voto che lo ha salvato sul bilancio di cavalli senatori deve averne nominati parecchi. Viene anche pubblicato un documento dello scorso metà aprile con il quale la notte i suoi affermavano che a distanza di tre anni possiamo dire che purtroppo tutte le aspettative sono state tradite dal personaggio Cannito e si dicono disponibili a votare una mozione di sfiducia per mandarlo a casa. L'uscita di Coriolano contro la notte mina anche la fiducia che Cannito mostra nel riuscire a recuperare i tre consiglieri del Movimento 5 Stelle. Insomma, un clima di incertezza assoluta. Naturalmente, se cercate di seguire una logica potete solo uscire pazzi. Posizioni intransigenti si sciolgono come neve al sole. Ciò che viene affermato con assoluta certezza viene smentito dopo poche ore. Ciò che abbiamo descritto potrebbe quindi modificarsi totalmente in qualunque momento. Ormai un impegno, una parola, una dichiarazione, un'affermazione perentoria valgono come la fedeltà di Cicciolina. Quindi aspettatevi altre contorsioni.